immaginifico incalzante carico di speranza gli oppressi insieme possono farcela sugli oppressori questo nuovo capolavoro di james cameron che strizza gli occhi al titanic e si compiace di una morale alla robin hood che dire da vedere assolutamente anche se c'è troppo e di più tanto che la storia si dilata dal punto da rallentare la narrazione farsi solo visione